Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola, code a tratti tra Prato Ovest e Firenze Ovest. Sulla Fipilì rallentamenti per traffico intenso tra Lastra, Signa e Firenze Scandici. In direzione Mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita a Santa Croce. La viabilità cittadina a Firenze, in via Vittorio Emanuele all'altezza di via Celso, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!